Devo preparare una mystery box solo skin care, quindi solo prodottini nuovi della skin care, guardate questo qua lo zucchero filato Crema viso portatile allo zucchero filato C'è anche il siero acne sempre allo zucchero filato Mi sento male, non potete capire che profumo che c'ha Quindi visto che devo preparare una box solo gadget, vado a inserire anche questo tonico viso Sempre portatile al passion fruit Poi andiamo a mettere lo scrub viso al caffè Ovviamente questa linea è 100% naturale Portachiavi roseo di Minnie Questa qui che vedete è una pellicolina che va tolta Fascia per trucco Morbidosa Ho messo anche un elastico gigante Adesso vado a mettere il marshmallow È caduto tutto Questo è lo struccante comunque Adesso andiamo a scegliere tre penne Questa qua che mi si abbina con lo zucchero filato E poi ovviamente anche roseo, l'unicorno Ed ecco qua, guardate che carina questa box Una penna mi manca Vado a scegliere il panda Le cremine le ho messe tutte dentro questo sacchetto Carino lui Mua Mua